Allora, devo leggere assolutamente un pensiero della signora Maria Grazia Camedda di Santa Giustina in provincia di Oristano, che mi segue e che io saluto e ringrazio per la costante partecipazione a questa mia trasmissione. Dice, ho ricevuto la sanzione governativa per non aver fatto la terza dose entro 120 giorni dalla seconda. Il secondo vaccino l'ho fatto il 7 luglio, il terzo il 7 febbraio, quindi ritardo di un mese. Come mi devo comportare? Devo pagare questa sanzione? Vi prego, parlate di questo problema. Guardi, prima di parlare di questo problema, di fare rispondere, chi vorrà rispondere? Ovviamente io lo pongo sul tavolo. Se c'è qualcosa bisogna stare attenti anche alla risposta, cara amica mia. Vi faccio sentire quello che ha detto l'avvocato Marco Mori. Ascoltatelo. A breve la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi su una questione fondamentale. Si pronuncerà sulla legittimità o meno dell'obbligo vaccinale, in riferimento al trattamento Covid, ovviamente. La sentenza è attesa per l'estate, io ritengo che uscirà sicuramente prima dell'autunno e segnerà un punto di svolta nella partita che abbiamo giocato in questi mesi per la legalità costituzionale, per la libertà di scelta, per la libertà di cura, per la lotta alle discriminazioni che sono state correlate a questi obblighi. È molto evidente che il mainstream non sta riportando la notizia, non ci sta dicendo che la Corte dovrà pronunciarsi e questa è una precisa strategia. Vogliono che la Corte possa fare una sentenza politica senza sentire pressioni da parte della popolazione. Non a caso negli anni hanno lavorato, in ambito istituzionale, per fare in modo che in Corte Costituzionale potessero esserci giudici molto vicini all'esecutivo. In questo quadro è invece fondamentale da parte nostra premere, ricordare a tutti che la Corte dovrà pronunciarsi e dire una cosa molto molto chiara. Non esiste possibilità giuridica di legittimare l'obbligo vaccinale. L'unico modo per farlo è demettere una sentenza volutamente politica, e quindi una sentenza che va contro la Costituzione. Per 30 anni e più la Corte è sempre stata chiarissima che gli effetti avversi correlati a una vaccinazione debbono essere di scarsa entità, e sono di scarsa entità quegli effetti tollerabili e temporanei. Cosa vuol dire temporaneo? Che alla fine una persona deve guarire. Secondo l'AIFA, nonostante la vigilanza passiva, qui abbiamo morti ed invaliditi permanenti. Ne bastava uno per rendere illegittimo l'obbligo, per cui è impensabile che la Corte possa avallare quanto fino ad oggi fatto dall'esecutivo. Ripeto, la battaglia sarà fondamentale perché se la Corte dice, come vi stavo ricordando, che l'obbligo è legittimo, non c'è appello, non c'è altra considerazione da fare, è finita la partita. E in autunno sarà a quel punto un bagno di sangue nel Paese. Perché questi, pensate che livello spingeranno ogni forma di discriminazione se l'obbligo venisse considerato legittimo. Quindi ci aspettano veramente mesi durissimi, per cui dobbiamo intervenire prima. Non dobbiamo permettere che la Corte possa pronunciarsi senza sentire la pressione da parte della popolazione. Siamo almeno almeno un 30% della nazione che è contrario a questi obblighi. Dobbiamo assolutamente farci sentire. E i giuristi, ripeto, avranno un compito fondamentale nello specificare come non esiste sentenza diversa dall'accoglimento. Non si può essere una sentenza che dichiara legittima una roba del genere. Non si può. Non è diritto. Non è minimamente diritto. I giuristi hanno il dovere di metterci la faccia, dirlo apertamente e dire che se quella sentenza salverà il governo sarà solo una sentenza politica che segnerà la fine di ogni credibilità di questa Corte Costituzionale. La cui composizione, ricordiamolo, deriva dalla violazione dei principi di rappresentatività democratica dovuti a leggi elettorali incostituzionali, ad esempio dal Porcellum in poi, che hanno però consentito al Parlamento di mantenersi. E siccome il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica e un terzo dei giudici della Corte Costituzionale, e a sua volta il Presidente della Repubblica elegge un altro terzo dei giudici, piano piano è neroso l'organismo di garanzia supremo dell'ordinamento. Non voglio nemmeno pensare a cosa accadrebbe se il governo si trovasse legittimato ancora una volta a poter proseguire in questi atti di natura spiccatamente criminale, perché è criminale impedire una persona che non vuole subire un trattamento sperimentale pericoloso, è criminale togliergli il lavoro. Non si può accettare, non si può sentire. Tra l'altro sarebbe criminale anche se il trattamento non fosse pericoloso. È proprio criminale il concetto stesso di vietare a una persona di lavorare, visto che il lavoro è lo strumento con cui un uomo sopravvive. È una sorta di pena di morte, inaccettabile in ogni caso.